Su Rai1 questa sera, sabato 22 novembre, va in onda l'ottava puntata di Ballando con le stelle. Il talent VIP show condotto da Millie Carlucci è giunto alla sua decima stagione. Nella scorsa puntata sono stati eliminati Joe Masca, Giorgia Surina e Diane Mello. Mentre hanno conquistato la semifinale del 29 novembre, Andrew Howe, Giulio Berruti, Giussi Versace, Enzo Miccio e Valerio Aspromonte. Ma entriamo nel dettaglio della puntata di questa sera grazie alle nostre immancabili anticipazioni. Nell'ottava puntata di Ballando con le stelle in onda questa sera, una delle coppie eliminate sarà ripescata per la semifinale. Andrà in scena una sorta di esame di riparazione davanti alla giuria del talent show di Millie Carlucci. Il verdetto finale tuttavia aspetterà al pubblico che attraverso il televoto potrà esprimere la propria preferenza. Le coppie rimaste in gara si esibiranno per alcuni minuti e il punteggio ottenuto fungerà da bonus per la prossima settimana. Tra le novità vi segnaliamo l'infortunio corso durante le prove ad Enzo Miccio, incidente che potrebbe costringere il concorrente a dare forfait. E poi la notizia che riguarda il ballerino mascherato Joe Masca che questa sera potrebbe mostrare per la prima volta il suo volto. Ballerina per una notte infine sarà Romina Power. L'ex moglie di Albano si esibirà al fianco del coreografo Fabrizio Graziosi con una salsa sulle note del brano Felicità. Insieme a Sandro Maier a commentare la gara stasera ci sarà anche a Marius Perez, il pallanotista concorrente della scorsa stagione riduce da Pechino Express.